Allora, il 29 maggio c'è la giornata di raccolta di firme contro i brevetti sui vaccini in sostegno della campagna, diritti alla cura, nessun profitto sulla pandemia, no profit on pandemic, questo stiletto è il sottotitolo qui, perché io non ho un titolo vero, è uno stile comunque, è un stile recitativo. Allora, le aziende farmaceutiche hanno i finanziamenti della UE, allora la UE cosa c'è dentro? C'è dentro l'Europa, l'Europa cosa c'è dentro? L'Italia, l'Italia cosa c'è dentro? La vostra città dove vivete, nella vostra città che cosa c'è? C'è il vostro condominio, nel vostro condominio probabilmente c'è anche il vostro monolocale, se avete avuto fortuna. E quindi la cosa vi riguarda, la salute è un diritto di tutti e le aziende devono condividere conoscenze tecnologiche, soprattutto fare trasparenza sui finanziamenti, perché se no non si capisce Giochino, io finanzio, perché tu cerchi una cosa, tu la trovi e poi la devo anche pagare. Vabbè, non è più niente come una volta, niente, per cui vi conviene firmare, perché non è più come una volta che succedeva una pandemia, accadeva una malattia, si rifondeva in un paese che so, il Kuzukistan, e tu potevi reagire dicendo Kuzukistan? Quanto dista? È lontano? Oppure in Kuzukistan? Dove hai Kuzukistan? Poveretti! No, no, più come una volta, perché da quando ci sono gli alberi, e gli alberi non hanno un cazzo di brevetto sul fatto di crescere come alberi, sono gente generosa gli alberi, dagli alberi gli uomini scendono, si muovono, e adesso anche di più, e il Kuzukistan vi arriva nel vostro condominio sul posto pieno rotto, quindi per favore, firmate, a meno che non avete delle azioni di qualche azienda farmaceutica, ogni volta che vi viene un cazzo di colpo di tosse, o un attacco di disenteria, e allora guadagnate, vi conviene firmare, e vi conviene firmare anche correndo in bagno o tossendo, dai, certo, basta, dovete farlo entro il 29 maggio, col computer, o anche dal vivo sul manchetto, c'è stata le volte che non si discute, no profit pandemic eu.it, scrivetelo bene, e firmate, sono 200 mila, dobbiamo arrivare a un milione, entro il 29 maggio, mica tanto tempo, firmano anche in Kuzukistan, chiudo. Grazie.